Nella progettazione di un'esperienza di insegnamento-apprendimento, avere ben chiari i nostri obiettivi, quindi aver definito bene i risultati di apprendimento attesi, è sicuramente un primo passaggio importante. Abbiamo poi ragionato su come, per mettere meglio a fuoco dove vogliamo arrivare, è anche estremamente utile ragionare fin dai primi passi su come andremo ad osservare quei risultati di apprendimento attesi e quindi quale sarà la strategia di valutazione. La cosa sulla quale dobbiamo riflettere è che l'aver chiaro l'obiettivo a cui tendiamo e il punto al quale vogliamo portare i nostri studenti e come faremo ad osservare chi effettivamente c'è arrivato non implica automaticamente la definizione del come ci arriveremo. Il come è una dimensione estremamente ricca e complessa che possiamo sinteticamente definire come una strategia, ma che si presta a mille e diverse interpretazioni. Costruire una strategia significa di fatto mettere in gioco un sistema sia di conoscenze, in termini proprio di know-how, di metodi, di modalità operative, ma anche di visioni, di sistema di valori, di inclinazioni personali che tutti insieme vanno a costruire quello che sarà il nostro modo di agire nell'esperienza di insegnamento e apprendimento e di arrivare al risultato finale. Ma da dove possiamo trarre ispirazione per costruire questa nostra strategia nel percorso di insegnamento e apprendimento? Abbiamo a nostra disposizione un'intera disciplina che ci può supportare in questo processo che è la pedagogia. La pedagogia è una disciplina ricchissima che ha oltretutto un'evoluzione continua nella sua proposta di nuove visioni di che cos'è la conoscenza, di che cos'è il processo di apprendimento, di quali sono le variabili chiave che le influenzano. Chi non proviene però da quel background può trovarsi un po' intimidito e disorientato di fronte a questa grandissima ricchezza. Per cui la proposta che vi facciamo in questo MOOC, forse è un pochino irriverente, è quella di vedere la grande storia della pedagogia un po' come se fosse l'alta moda. Forse vi stavate domandando cosa ci facevano queste due foto qua accanto a me, però la metafora che vi proponiamo è quella di vedere la pedagogia come se fosse appunto l'alta moda e poi dedurne dei modelli invece operativi che potremmo definire più vicini al concetto di pret-à-porter. Quindi qualcosa che recupera i messaggi culturali forti che vengono dai grandi ideatori dell'alta moda, ma finisce per tradurli in qualcosa di utilizzabile nella vita quotidiana. La pedagogia stessa ci propone degli strumenti di connessione tra la teoria pedagogica e la pratica didattica, che sono i cosiddetti modelli pedagogici. I modelli pedagogici sono esattamente la concretizzazione in termini di pratica didattica, quindi di linee guida operative, dei principi generali che possono essere ispirati dalle grandi teorie pedagogiche. I modelli pedagogici, proprio perché sono dei mediatori logici che traducono una dimensione molto ricca e articolata culturalmente in una pratica operativa, esattamente come dicevamo, come avviene nella traduzione dall'alta moda al pret-à-porter, rischiano di avere il difetto di essere delle eccessive semplificazioni. Spesso sono anche accusati di essere delle banalizzazioni, quindi la versione negativa della semplificazione. Quello che proveremo quindi a fare è proporvi dei modelli pedagogici che facciano del loro meglio per conservare principi ispiratori delle teorie pedagogiche dalle quali derivino. E che cosa significa? Significa che conservino in primo luogo la visione di che cos'è la conoscenza per quella specifica teoria pedagogica, poi di che cos'è in quella prospettiva l'apprendimento, ma soprattutto di quali sono le variabili chiave che, secondo quella teoria pedagogica, vanno ad influenzare maggiormente l'apprendimento e, dunque, la modifica del sistema della conoscenza. Grazie.